Arriva Civitavecchia il Trofeo delle Regioni Enduro, qual è il programma? Il programma è sabato e domenica, con arrivo tra oggi e domani ci sarà una gara nazionale Trofeo delle Regioni. Ogni regione schiererà quattro piloti che si sfideranno in delle prove speciali. Non significa che facciamo una gara cittadina, ma bensì che partano dalla marina a regola della strada per andare poi su due linee speciali che sono nello sterrato. Lì ci sarà la velocità da fare, si stileranno le classifiche e a fine dei due giorni uscirà la classifica con la Regione Vincente. Il programma principale è partenza dei bambini sabato mattina a ore 8.30 in zona industriale. Subito dopo il Lidl sulla sinistra trovate la prova speciale per poi partire i grandi all'una e mezza di pomeriggio. Faranno un giro di 50 km sullo sterrato con annesse queste due prove speciali e chiuderanno lì. La sera dalle 18 in poi ci saranno degli eventi tra cui sfilato delle Regioni piuttosto che presentazione dei libri, esposizione di varie aziende, piuttosto che poi domenica partono alle 8.30 per chiudere la giornata alle 16 e stirare le classifiche e premiazione. Quindi una bella opportunità per la Regione Lazio, possiamo dire così, per ospitare una gara nazionale qui a Civitavecchia. Sicuramente è la prima volta che nel Lazio e nello specifico a Civitavecchia si svolge un evento di carattere nazionale. Questo grazie a UISP in qualità di rappresentante dell'enduro Lazio, grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato un grosso supporto. Vi aspettiamo a tutti sabato e domenica. Allora chiudiamo con Matteo Iacomelli. Insomma, come siete riusciti a portare la Civitavecchia questa gara così importante? Beh, dobbiamo dire che era più di un anno che cercavamo di creare un evento del genere. Con Gianluca ci stavamo già lavorando da tempo e ci siamo riusciti. Chiaramente l'organizzazione è stata molto difficile perché si cerca di portare una gara enorme e si cerca di portarla all'interno della marina che giustamente ha spiegato sarà soltanto il paddock dove però tutti quanti, bambini, adulti potranno venire a vedere e ammirare questi atleti con le loro moto poi da lì si sposteranno. Però saranno una due giorni di sport importante nella nostra città. Siamo veramente molto soddisfatti. Insomma, speriamo che questo possa essere la prima di una serie di grandi eventi dell'enduro a Civitavecchia.